Ben tornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui insieme a voi per parlare del film di Joe Wright intitolato L'ora più buia ragazzi, l'ora più buia, film che parla delle vicende riguardanti il primo ministro britannico Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale, ragazzi, Winston Churchill interpretato da Gary Oldman Gary Oldman tra l'altro vincitore del Golden Globe come miglior attore protagonista in un film drammatico e che probabilmente vincerà anche l'Oscar, ma anche a mani basse Un'interpretazione infatti fantastica, quella di Gary Oldman nei panni di Winston Churchill Interpretazione fantastica grazie anche ad un make-up perfetto Guardate questa foto Voi in questo momento state guardando Winston Churchill? Ecco, in realtà non è Winston Churchill, quello lì è Gary Oldman con un po' di make-up, giusto un pochino Lo so, non ci state credendo, non ci state credendo, non ci credevo anch'io durante i primi minuti del film Poi però ho notato gli occhi indistinguibili dell'attore e mi sono ricreduto, ecco, mi sono ricreduto Quindi complimenti non soltanto all'ottima interpretazione di Gary Oldman Ma anche ai make-up artist e ai costumisti, ecco, che hanno fatto davvero un ottimo lavoro in questo film Se da una parte Christopher Nolan racconta le vicende della Seconda Guerra Mondiale dalla prospettiva della spiaggia di Dunkirk Dall'altra Joe Wright racconta appunto le vicende della Seconda Guerra Mondiale dalla prospettiva di Winston Churchill Soprattutto durante le settimane precedenti al salvataggio dei soldati britannici dalle spiagge di Dunkirk E se da una parte troviamo un Churchill con i suoi ideali e con le sue idee Dall'altra invece troviamo una piccola parte del governo, ecco, una minoranza del gabinetto Con idee differenti, con idee differenti dalle sue Una parte, diciamo, minore del gabinetto che cerca, diciamo, di spingere Winston Churchill verso un accordo Verso un accordo con Hitler, verso un accordo con la Germania Ma soprattutto verso un accordo con Benito Mussolini e la sua Italia Perché, ricordiamoci, Italia alleata della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale Ahimè, ahimè Ma Winston Churchill continua con le sue idee, continua con le sue idee, continua ad inseguire i suoi ideali Perché alla fine questa è la tematica principale del film di Joe Wright Inseguire i propri ideali, inseguire le proprie idee, ecco, e non cambiare mai idea Anche se gli altri ci provano fino alla fine Ragazzi, chi è che ci prova fino alla fine in questo film? È Stephen Dillane Stephen Dillane, lo Stannis Baratheon del Trono di Spade Che, sinceramente, ragazzi, è perfetto per questa parte È perfetto per questa parte Perché Stephen Dillane ha lo sguardo perfetto Ha lo sguardo perfetto Ha lo sguardo di una persona che non è d'accordo, ecco Lo sguardo di una persona che non è d'accordo È completamente diversi, ecco, idee, idee che cerca di improntare sugli altri Senza però succedere, ecco, senza succedere E quindi buonissima interpretazione da parte di Stephen Dillane, ragazzi E chi troviamo anche? Troviamo Lily James Troviamo Lily James da Baby Driver Una Lily James che in questo film interpreta la parte della segretaria di Winston Churchill Quindi lei praticamente quello che fa è scrive Scrive i discorsi di Churchill Con la macchina da scrivere, ecco La macchina da scrivere di decenni fa, ecco Però Lei Diciamo che non è soltanto la segretaria di Churchill in questo film Lei rappresenta la sua coscienza Lei rappresenta la coscienza di Churchill E questa, ragazzi, è una cosa molto curiosa Perché troviamo 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 delle lacrime Troviamo delle lacrime Dele lacrime che rappresentano la disperazione di Churchill, ecco In momenti difficili Durante Durante quelle decisioni Troviamo Troviamo l'intraprendenza Troviamo l'intraprendenza Che alla fine rispecchia l'intraprendenza di Churchill Nel fare la scelta giusta, ecco Nel fare la scelta giusta Il suo coraggio Nel fare certe scelte E poi Che cos'è che succede? Praticamente lei Durante i discorsi Vari discorsi di Churchill Lei li parla in contemporanea Li parla in sottofondo, ecco Ed è per questo che io penso Che Lily James in questo film Rappresenti non soltanto la segretaria di Churchill Ma anche la sua coscienza Questa è una cosa molto curiosa, ragazzi Per voi che avete visto il film Ragionate, ragionate E scrivetemi nei commenti Ecco Per dirmi che cosa ne pensate di questa cosa Di questa mia idea, ecco Ragazzi L'ora più buia è un bel film Davvero un gran bel film Soprattutto in termini di cinematografia, ragazzi In termini di cinematografia Sotto il punto di vista tecnico, ecco Troviamo delle inquadrature Non soltanto belle Ma anche significative, ecco E ce ne sono due in particolare Che adesso vi spiegherò Due inquadrature in particolare Allora, avete presente spazi Spazi, diciamo Spazi molto chiusi Spazi chiusi Spazi piccoli Come un ascensore Come un bagno Un bagno piccolo ovviamente Non il bagno del Presidente degli Stati Uniti d'America Una cabina telefonica Una cabina telefonica È l'esempio perfetto Allora, tu con un'inquadratura Come fai a rappresentare tutto quello che succede Dentro una cabina telefonica? Perché ricordiamoci che la cabina telefonica è Diciamo che ricopre uno spazio verticale Come fai tu a metterlo Tutto quanto in uno schermo Che è rettangolare Perché lo schermo è rettangolare Sia quello del computer Che quello di uno schermo al cinema Semplicemente non lo fai Non lo fai Tu Mi crei una cornice Una cornice Scura Che è alla fine Che diciamo che è più imponente Del riquadro Una cornice che è più grande del riquadro Quindi praticamente la cabina telefonica È soltanto il punto centrale È soltanto il punto centrale Ragazzi Viene rappresentato soltanto Come un punto centrale In uno schermo grande Ricoperto praticamente da oscurità È ricoperto da oscurità C'è l'oscurità E poi c'è la mia faccia Proprio in mezzo allo schermo Adesso non so come spiegarvi Nei dettagli Forse trovo Forse Speriamo che riesco a trovare Diciamo delle immagini su internet Che vi possano mostrare Di che cosa sto parlando Però non è tanto La composizione di questa inquadratura Non è tanto la composizione Di questa inquadratura Ma è tanto il suo significato Ecco Il suo significato Perché cos'è che simboleggia Cos'è che significa Questa inquadratura Ovviamente stiamo parlando Di spazi claustrofobici Stiamo parlando di spazi piccoli Spazi claustrofobici Che rappresentano quindi La claustrofobia Che sta sentendo in quel momento Churchill Nel prendere certe decisioni In un periodo di tempo In un periodo di tempo molto stretto Ovviamente con tante pressioni Ed è la stessa claustrofobia Che stanno sentendo anche I soldati inglesi ragazzi Sulle spiagge di Dunkirk Con il mare da una parte E i soldati tedeschi I soldati nazisti dall'altra Quindi rappresenta la claustrofobia Che in quel momento Praticamente stanno sentendo Tutti gli inglesi Stanno sentendo tutti gli inglesi E in particolare i soldati È Churchill Un'altra inquadratura È molto significativa ragazzi Un'inquadratura che invece È completamente l'opposto Quindi non è claustrofobica Ma è tutt'altro È tutt'altro Quando Churchill guarda il cielo Quando Churchill guarda il cielo Guarda in alto E c'è un'inquadratura Che non lo riprende praticamente Non lo riprende frontalmente Ma lo riprende dall'alto Riprende dall'altro La faccia di Churchill Che guarda verso la telecamera Con la telecamera che piano piano Si alza Piano piano si alza Come praticamente Come rapita dagli alieni Ecco Con un movimento Non tanto lento Non tanto lento Ma anzi un pochino più Un pochino veloce E che riprende Churchill Sempre più piccolo Ovviamente allontanandosi Riprende Churchill Sempre più piccolo E lo spazio intorno a lui Che diventa sempre più grande Che cos'è che rappresenta Questa inquadratura ragazzi Che cos'è che simboleggia Simboleggia ovviamente la piccolezza La piccolezza di un uomo Come Churchill La piccolezza rispetto a Tutto quello che sta succedendo La piccolezza rispetto Rispetto alla guerra Ecco La piccolezza di un uomo Con idee Ancora più piccole Che però ha cambiato Lo svolgimento Della guerra stessa Ragazzi Un uomo così piccolo Che ha fatto la differenza Un uomo così piccolo Con idee ancora più piccole Che hanno fatto la differenza ragazzi E' questo che simboleggia E' questo che simboleggia questa inquadratura Quindi ci sono molte inquadrature significative Molte inquadrature interessanti In questo film Devo fare quindi complimenti a Joe Wright Una cinematografia che si avvicina Che si avvicina Al livello della cinematografia Di Denis Villeneuve In Blade Runner 2049 Anche se quella Probabilmente è un pochino migliore Quindi io gli do un 8 Un 8 allora più buia Così come ho dato un 8 A Blade Runner 2049 ragazzi Anche se Blade Runner 2049 Sotto l'aspetto tecnico E' migliore Sotto l'aspetto narrativo E' un pochino peggiore Preferisco l'ora più buia Ecco preferisco l'ora più buia Perché sono due film Entrambi molto lenti Ecco che sono molto lenti Però la lentezza di Blade Runner 2049 E' ingiustificata Mentre invece quella del film Di Joe Wright E' un pochino più giustificata Perché stiamo parlando di un film Che non è un thriller Non è un thriller E' un film che si svolge Tutto intorno a conversazioni A ragionamenti A strategie A discorsi A monologhi Quindi deve essere un film Entro Deve essere un film Entro Non è il Dunkirk di Christopher Nolan E' l'ora più buia Di Joe Wright Quindi deve essere lento Deve essere lento Ed è per questo Che mi è piaciuto di più Sotto l'aspetto narrativo Di Blade Runner 2049 Quindi un 8 a Joe Wright Ragazzi credo che Si sarebbe meritato Una nomina Ecco I Golden Globe è come il miglior film drammatico Al posto di tutti i soldi nel mondo Di Ridley Scott Sinceramente Però ragazzi Ditemi che cosa ne pensate voi Nei commenti Ragazzi Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Mettete un like Se questa recensione vi è piaciuta E vi ha intrigato E noi ci vediamo Nei prossimi video Ciao Ciao Grazie a tutti.